Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di una NDE particolare, in quanto siamo ancora a parlare di una NDE di una signora non vedente dalla nascita. Voi sapete che le NDE delle persone non vedenti sono le più spettacolari perché sono di per se stesse una prova provata che l'NDE è un'esperienza vera e che la vita dopo la morte esiste. Per cui quando nel mio database trovo qualcuna di queste NDE sono molto ben contento di riportarvela. Fra le altre cose la signora ha lasciato un'intervista in inglese visto che è una signora americana e vedrò se riesco a metterne qualche spezzettone qua nel video o altrimenti solo qualche immagine. Non ha scritto libri, non ha rilasciato molte interviste, solo una o due nell'arco della sua vita. Quando si è decisa a mettere a conoscenza di tutti di questo fatto eclatante. A dire il vero i fatti eclatanti sono due, ma partiamo per gradi. Allora l'NDE di Vicky Noratuk. Vicky Noratuk è nata prematura in 22 settimane nel dicembre del 1950. Cosa succede però? Che all'epoca una nuova concezione di incubatrici era stata messa in utilizzo negli ospedali statunitensi. Queste incubatrici erano dotate di un erogatore particolare di ossigeno. Solo che all'epoca non si sapeva, si scoprì poi negli anni successivi in seguito alla perdita di vista periferica da parte dei piloti di aereo, militari ovviamente, che pilotano in aerico, pilotano aerei depressurizzati e quindi hanno la mascherina di ossigeno. Cosa succede? Che se si dà troppo ossigeno si bruciano i nervi e i tessuti e così nei bambini che venivano messi in queste incubatrici si bruciarono i nervi ottici. Quindi un bambino prematuro messo sotto ossigeno in questa maniera bruciava e perdeva completamente la vista. Quindi la signorina Vicky Noratuk perse la vista appena nata, quindi lei non vide mai. Per i suoi 43 anni non vide niente fino a quando non ebbe l'NDE. C'è da dire una cosa che già da ragazzina ebbe una piccola prova di NDE. In seguito a una peritonite fu operata, ebbe un momentaneo arresto cardiaco e lei per la prima volta nella sua vita vide. Perché si vide fuori dal corpo, vide i sanitari che lavoravano su di lei, vide la stanza di ospedale. Però la ragazzina la memorizzò un po' come un sogno. Un sogno strano perché lei ci dice che fino a 43 anni non sogna mai visivamente, cioè non ebbe mai sogni visivi. Proprio perché lei non vedeva la nascita e quindi non aveva sogni con immagini, ma solo con rumori, con odori. Ecco i sogni erano fatti da quelle che erano le sensazioni che lei aveva durante il giorno, essendo non vedente. Ma andiamo a vedere quando ebbe la sua NDE, la sua seconda per la precisione, dove lei finalmente ha lasciato il corpo e ha visto per la seconda volta nella sua vita. Era il 2 febbraio 1973. Pur essendo poco vedente, anzi non vedente, la signorina Vicky era però una brava musicista e in effetti voi sapete che i non vedenti sviluppano molto altri sensi come il tatto, l'olfatto e l'udito. Quindi lei aveva un buonissimo orecchio musicale e questo lì era riconosciuto e veniva chiamata per lavorare come cantante e pianista. Quindi lei lavorava il 2 febbraio 1973 come cantante e pianista in un ristorante di Shuttle a Washington. Erano le due di notte e il proprietario, avendo paura di offendere una copria di ubriachi che si era offerta di accompagnare a casa la signorina Vicky, non obiettò nonostante la signorina Vicky cercava di resistere a questo invito e quindi l'accompagnò e la fece salire in auto. Lei voleva che il proprietario del locale gli aprisse l'ufficio per chiamare un taxi dal telefono ma appunto così non fu. Quindi accettò malincuore il passaggio di questa coppia di signori molto gentili ma che erano piuttosto alticci perché avevano bevuto parecchio durante la serata. Come partirono conducente disse alla moglie che ci vedeva doppio e l'auto zizzagava per le strade. Vicino alla base della collina di Queen Annie ha sentito la nostra Vicky perché lei ovviamente non vedeva per cui ha sentito un forte stridio di gomme e la macchina è finita fuori controllo. La moglie del guidatore quindi la moglie di chi portava la macchina iniziò a gridare oh mio dio oh mio dio ci schiantiamo. Tutto dice Vicky è diventato molto lento ho urlato ed è stata la mia ultima consapevolezza nel corpo fisico e quindi avvenne lo schianto. Che adesso arriviamo al momento particolare in quanto è un'idea straordinaria che inizia finisce e rinizia rifinisce insomma entra esce un paio di volte dal corpo. Dice Vicky sentiamole le sue parole stordita e disorientata ho sentito me stessa uscire dalla bocca. Il tempo sembrava ancora rallentare ed estendersi mi stavo sollevando in aria sopra la strada confusa ho visto il mio corpo brevemente io ho avuto un momento di incertezza. Quando una parte di me voleva tornare dentro e un'altra sentiva che era così bello rimanere fuori. Poi sono rientrata è stato come quando si torna a casa perché si è dimenticato qualcosa non mi ricordo però il viaggio all'ospedale di Arborive. Arrivata al pronto soccorso ero cosciente di trovarmi vicino al soffitto potevo vedere di nuovo. Ecco tutte le volte che lei ha avuto questa esperienza di obe quindi di fuori uscita del corpo poteva anche vedere e vedeva il suo corpo dall'alto come abbiamo già visto in molte altre obe. Durante questa esperienza di premorte ero in uno stato continuo di sbalordimento nel poter guardare e vedere ogni cosa. In realtà era tutto così estraneo per me che diventava una complicazione costante sostenere i miei sforzi cioè sostenere tutti questi stupori tutte queste visioni perché non era abituata a vedere non aveva mai visto in vita sua a parte quella brevissima parentesi di qualche secondo quando era morta durante l'operazione per peritonite. E quindi era come ascoltare una lingua straniera che non si comprende ma si desidera capire e continuiamo a sentire il suono di queste persone che ci parlano in lingua straniera e noi non comprendiamo ma il suono arriva. Sotto di me c'era un corpo su una lettiga e non ero sicura che si trattasse di me ero sconvolta e anche un po' atterrita però la lunghezza di capelli era la mia e una parte di essi era stata rasata. Questo non aveva molto senso perché poi ci volle molto tempo a farli ricrescere e lei amava così tanto quei capelli lunghi che lei poi poteva solo sentire e non vedere. E' stato come perdere una parte di me è perdere questi capelli però i sanitari l'avevano rasata per controllare ovviamente un grande trauma cranico che lei aveva in testa. Nelle vicinanze ho visto distintamente un esponente femminile dell'equipe medica mi sono sentita tratta non so per quale motivo verso di lei e quindi mi sono avvicinata cercando di spiegare. Avevo un gran bisogno di essere capita di essere sentita poi ho sentito una voce maschile asserire che c'era del sangue sul timpano del mio orecchio sinistro e che avrei potuto diventare sorda ma io mi misi a dire io non sono sorda non sono sorda vi sto sentendo vi ascolto forse la donna sarebbe stata più in grado di dirglielo non mi senti sono proprio qua cominciò a dire all'infermiera. A questo punto mentre le impressioni visive la confondevano la stordivano un po' perché appunto non era abituata diventavano anche secondarie il suo desiderio di comunicare. perché lei voleva fargli capire che stava bene e che sentiva parlava che era lì presente. La dottoressa quindi c'era anche una dottoressa aggiunse non sappiamo quanti danni celebrali ci siano e potrebbe trovarsi uno stato vegetativo. E allora mi misi a urlare non sono uno stato vegetativo sono qui sono viva. Era così frustrante che che loro non mi sentissero che loro non mi capissero e era come se non esistessi quindi non desiderai altro che uscire da lì. In quell'istante come se fosse stata una risposta al mio pensiero ho avuto l'impressione di essere attratta verso l'alto. Salì improvvisamente verso il soffitto dell'ospedale proiettandomi al di fuori dell'ospedale nello spazio. Ho visto delle luci non so da dove venissero ma non mi importava perché mi sentivo così libera così bene. Ero stordita dalla velocità e dalla facilità di movimento come se mi stessi inalzando. Provavo una sensazione incredibile di euforia e inebriamento. Questo poteva sembrare stravagante ma mi ricordavo lo stato in cui si può trovare un cucciolo quando si rotola nell'erba non curandosi affatto del dove si stia rotolando. Poi a distanza ho sentito un suono bellissimo come di campane tubolari. Conteneva ogni singola nota che si possa immaginare dalla più bassa alla più alta tutte mescolate insieme. Come musicista ero incuriosita da questa musica, da queste note. C'erano così tante tonalità diverse che non sapevo neanche che fosse possibile. Ero in riverente soggezione. Risucchiata a capofitto in un tunnel buio, sono stata condotta dal vento verso una luce lontana che si ingrandiva. Avevo una sensazione di arieggiamento, come se grandi enormi ventilatori mi sospingessero. La galleria era confortevole e ampia. Di tanto in tanto oltrepassava quelle che sembravano delle finestre, delle aperture in mezzo a questo tunnel, in mezzo a questa galleria. Passava questo tubo, questo tunnel e queste finestre. Capì che erano altri tunnel dove passava altra gente che stupita come lei guardavano dove potevano a destra e a sinistra. Vedevano attraverso questi spiralli, questi buchi, queste finestre appunto gli altri che a loro volta risalivano alla stessa maniera. Improvvisamente sentì anche dei canti, dei suoni, della musica. E poi si ritrovò come adagiata in un prato luminoso, pieno di gente che sorrideva, che cantava, che appunto era felice. E si ritrovò in questo posto meraviglioso. Quella gente vide venirsi incontro Debbie e Jane, che erano due altri non vedenti che facevano parte della sua scuola per non vedenti in Oregon. Entrambi morti già da tempo. Le vennero incontro e volevano comunicarle, abbracciarle. Lei sentiva che ogni domanda che poneva le arrivava direttamente la risposta. Cioè li sentiva dentro di sé già la risposta. Conosceva tutto, sentiva tutto. E riconobbe alcuni fiori, alcune piante, alcune cose, perché li sentiva anche il profumo. Oltre che a vedere le cose, ne sentiva il sapore e il profumo. Esattamente come abbiamo visto in molte altre NDE. Nel momento in cui Debbie e Jane li si avvicinarono velocemente, improvvisamente comparve quello che lei identifica come Gesù. Questo personaggio, con la barba, i capelli lunghi, meraviglioso, con una veste splendente, che li fermò. Li fermò come per dire se vi incontrate, se vi toccate, non ci sarà più ritorno. Si oltrepasserà un limite. E quindi li fermò e si pose davanti a Vicky. Gesù era luminoso e la luminosità intorno a lui era molto più compatta, molto più vicina. E l'abbracciò e le diede il benvenuto. E improvvisamente tutto quello che c'era intorno era come se fosse scomparso. Lei era solo con Gesù. Percepiva solo Gesù. Non riusciva a vedere nient'altro intorno a lei. Gesù era di fronte a lei e li fece vedere, scorrere la sua vita davanti. Le fece vedere i suoi errori, le fece vedere le cose che faceva bene, che faceva male. Le fece vedere il suo rapporto con i figli, perché Vicky aveva due figli. Gesù, per farla sentire più a suo agio, parlava il suo stesso linguaggio, il suo stesso slang e rideva. Rideva con un riso bonario, con un riso amichevole, come se fosse uno di famiglia. Pur nonostante facendole vedere e notare i suoi errori, cosa che le provocava un grosso dispiacere e un grosso imbarazzo. Che veniva prontamente mitigato e spento da questo sorriso e da questa risata gioiosa di quello che lei identifica appunto come Gesù. Le chiese, cosa hai imparato dalla tua vita? E le rispose che bisogna essere onesti, che bisogna essere corretti. E Gesù le disse, bisogna imparare ad amare. Ad amare soprattutto chi non ci ama, chi troviamo fastidioso, chi troviamo indisponente. Amare e conoscere, capire le cose ed amare. Questo le disse Gesù. Ecco che Gesù con questo viatico bisogna imparare ad amare e perdonare, a conoscere e a capire. La respinse indietro. Lei non si capacitò di come un attimo si ritrovò, si risvegliò in ospedale. Con una frattura cranica, una frattura vertebrale e una frattura alla gamba. Ho molto dolore. La ripresa fu lenta e dolorosa. Ma allo stesso tempo era felice di poter portare avanti quello che era stato indicato di fare. E così fece la nostra cara Vicky Noratuk. Bene, spero che questa NDE stupefacente, perché stupefacente è il fatto che una non vedente, nel momento in cui alobe, cioè fuoriesce dal corpo, la prima fase dell'NDE, comincia a vedere. Queste cose le ha poi descritte a familiari, infermieri, a medici, che sono tutti rimasti esterefatti dal fatto che lei, una cieca, una non vedente dalla nascita, perché così è tornata nel corpo fisico, potesse aver visto e descritto così bene cose e colori anche dell'ospedale, anche delle attrezzature, dell'ambulanza e del luogo dove avvenne l'incidente. Benissimo, questa è la storia di Vicky Noratuk, mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete un bel like, condividete nei vostri social il video, che è un grande aiuto come potete dare, solo il 20% di voi è iscritto, quindi iscrivetevi, aiutate il canale a crescere, ci vediamo in un prossimo video, ciao a tutti da Armando, ciao! Grazie a tutti!